Ringraziare il Sindaco e il Presidente della Proloco per le parole che hanno avuto per la nostra misericordia che come sapete è sempre presente a San Giovanni quando c'è da fare qualche cosa. I nostri servizi non sono solamente delle sanità, non sono pochi, però anche quando c'è da fare qualcosa per la città di San Giovanni noi siamo sempre presenti quindi per volentieri abbiamo accettato l'invito di partecipare a queste manifestazioni, di allestire queste manifestazioni e in particolare io devo ringraziare i nostri volontari veramente in particolare Spartaco e Gerardo che sono stati veramente bravissimi nell'allestire per esempio la Casa di Papua Natale in Corso Italia che sarà sempre aperta per tutte le manifestazioni. Devo ringraziare l'architetto Morali che ha supervisionato e che ci ha dato veramente una mano indisprezzabile per fare queste cose e vorrei anche magari...